Sei un networker? Fermo e ascolta quello che ho da dirti all'interno di questo video. Quello che vedi all'interno di questa slide sono le quattro fasi necessarie per avere successo con un business di network marketing. Quindi se fai network marketing sai esattamente che il 99% delle aziende ti propinano il solito metodo del passaparola, lista nomi, vai dalla zia, vai dalla nonna e ti dicono di andare dal parente, tutte queste cose qui che sappiamo entrambi che ormai non funzionano più e non è possibile continuare ad utilizzare questo metodo perché le persone non vogliono la tua opportunità e se vogliono la tua opportunità non sono pronte per iniziare questo tipo di business. Quindi quello che vedi all'interno di questa slide sono le quattro fasi necessarie di cui poi abbiamo una quinta fase e adesso ne parleremo. La prima è l'attrazione, quindi quando il tuo potenziale collaboratore è freddo, non ti conosce, non sa che cosa hai da proporre, non sa con quale azienda collabori e molto probabilmente non sa neanche che cos'è il network marketing. Quindi è importante creare una qualcosa che attrae il tuo potenziale collaboratore e che lo porti a lasciarti i contatti. Quindi i contatti che sia il nome, il cognome, il numero di telefono, la mail, quello che serve per poter agganciare questa persona in modo da parlare poi con questa persona e parlare della tua opportunità. Ma prima di fare questo, quindi prima di arrivare alla chiusura, quindi che è il punto 4, abbiamo un punto 3. Hai bisogno di un periodo educativo. Quindi un periodo dove devi dare una percentuale di informazioni al tuo potenziale cliente barra collaboratore in modo che questa persona sia propensa poi ad avere un contatto diretto con te. Oppure venire al meeting, quindi per esempio potresti pensare di fare una videochiamata con lui o portarlo all'interno di un webinar della presentazione con cui sostanzialmente andate a presentare il vostro business. E poi abbiamo la duplicazione. Ora sai benissimo che se fai network marketing e ti viene detto di fare la lista nomi e tutte queste robe qui non è duplicabile. Non è una cosa duplicabile perché non tutti hanno 100.000 parenti, non tutti hanno 100.000 amici, non tutti hanno persone accanto, propensi ad iniziare un'attività di network marketing. Quindi devi avere un sistema che puoi prenderlo, farlo tuo, farlo funzionare. Quindi utilizzare queste cinque fasi, la trazione, i contatti, il periodo educativo, la chiusura e poi la duplicazione. Ora, dalla prima fase fino alla quarta è un periodo completamente automatico, ok? Quindi possiamo fare attrazione di questi potenziali clienti online con un sistema organizzato che funziona. Possiamo prendere i contatti automaticamente senza andare a cercare la gente lì fuori. Possiamo fare un periodo educativo tramite dei sistemi che poi ti spiegherò all'interno del videocorso gratuito che ho preparato per te dopo questo video. E possiamo fare la chiusura direttamente con i sistemi tradizionali, quindi al telefono oppure tramite il webinar, ok? Ma i primi tre punti sono automatici, devono essere automatici. Questo perché? Perché ti permettono di avere più tempo libero durante la tua giornata, ti permettono di parlare con persone già calde, quindi con persone che sono già interessate a quello che tu vuoi vendere, e quindi ti consentono di parlare solo con persone che realmente sono pronte ad acquistare il tuo kit di network marketing, il tuo prodotto barra servizio e iniziare questa attività insieme a te. Tutte le altre, tutte le persone che non sono interessate, le avrai scartate automaticamente, quindi non ti hanno fatto perdere tempo. Ora, per fare tutto questo c'è un sistema, un sistema matematico, un sistema scientifico che ti permette di far replicare la stessa identica cosa a tutte le persone della tua rete. Per scoprirlo e capire come funziona nel dettaglio, ho preparato tre video lezioni che ti spiegano passo dopo passo tutto quello che devi fare. Quindi, clicca sul link che trovi qui in basso, arriverai all'interno di una pagina, entrerai all'interno di questo videocorso e vai a capire come funziona questo metodo, se vuoi veramente avere dei risultati.